Proseguiamo con un'iniziativa dedicata ai bambini a carattere sociale presentata a Casa Massima. Vediamo. A Casa Massima un evento solidale con tante aziende protagoniste ma anche i bambini protagonisti, il bene e il male nell'Arsa Pueri. Due giornate all'Università Jean Monnet di Casa Massima, direttore proprio di Casa Massima dell'Oshan. Ci vuol dire perché il sostegno a questa iniziativa di carattere solidale, abbiamo detto, è benefico? Sì, diciamo che fa parte del DNA di Oshan, essere vicino al territorio, quindi presenti non solo dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista sociale. Nel momento in cui c'è il bisogno Oshan è sempre presente, quindi intorno al territorio qualsiasi tipo di attività si dovesse produrre facciamo sempre la nostra parte con grande impegno e con grande generosità. Soprattutto quando c'è il mondo dei bambini protagonista mi sembra che ci sia un'attenzione in più. Sì, i bambini toccano sempre, è veramente qualcosa di importante, quindi siamo stati presenti anche nella parte della città di Bari con un progetto molto importante che abbiamo anche cofinanziato. Ora si è presentata l'occasione qua a Casa Massima e ovvio ci siamo catapultati per dare il nostro aiuto. E quindi non soltanto per i bimbi della zona ma anche per bambini che sono di altre nazioni e addirittura di altri continenti, quindi un respiro a tutto tombo. Sì, ci fa un po' respirare quello che è l'aria limpida, pura di questo tipo di attività e noi siamo ben contenti di fare tutto questo. Grazie. Grazie.